Quando si dice spremere una saga fino all'osso, beh, lo stanno facendo con quella di So l'Enigmista, visto che il 26 ottobre del 2023, un mese dopo rispetto agli Stati Uniti, uscirà in Italia So X, il decimo capitolo della saga dedicata a John Kramer e ai suoi giochi pericolosi e mortali. Dunque, lo si sa, per noi amanti dell'horror, So l'Enigmista è un franchise che ha saputo appassionarci, coinvolgerci, sicuramente anche sbalordirci e farci provare anche dei momenti di repulsione per l'atrocità delle trappole che ogni volta venivano messe in gioco per far sì che i protagonisti iniziassero ad apprezzare il dono della vita. Ci sono persone molto drastiche che considerano sufficienti solo le prime due o tre pellicole quando in realtà, a mio avviso, opinabile, fino al sesto capitolo, la saga si può definire assolutamente dignitosa. I problemi si sono verificati con il capitolo finale in 3D, che non era orribile ma già stavamo andando fuori strada, con So Legacy, per me bruttissimo, la prima volta che lo vidi in sala, trovereste la recensione sul canale, provai in qualche modo a salvarlo, mi costrinsi cercando di trovare qualcosina di riuscito qua e là, ma alla fine, anche rivedendolo, non ce l'ho proprio fatta a trovare qualcosa di effettivamente riuscito dal momento in cui si forzavano tante di quelle dinamiche, di quelle situazioni, andando a peggiorare la continuità, che non posso far altro che confermare quanto So Legacy sia tra i più brutti di tutta la saga, se non il peggiore. Poi è arrivato lo spin-off, che comunque tornava ad essere diretto dal regista di So 2, 3, 4, e cioè Darren Lyne Boseman, Spiral, l'eredità di So, che poco centrava con la saga principale, ma anch'esso un film veramente mediocre e prevedibile, e anche di questo trovereste la recensione sul canale. È stato annunciato un ulteriore tassello del franchise, questo So 10, che praticamente dovrebbe collocarsi fra il primo So e il secondo, quindi sarà un prequel. Sul personaggio di John Kramer, già questa cosa mi fa avere più voglia di vederlo, per quanto a inizio video vi abbia già detto che questa saga è stata spremuta in tutti i modi possibili, quindi chissà se questa volta avranno davvero qualcosa da raccontare oppure no. Io attendevo con grande curiosità il primo trailer, proprio per capire dove saremo andati a parare, se già ci poteva essere qualcosa di accattivante, per farmi dire non vedo l'ora di vedere questo nuovo tassello cinematografico dedicato all'Enigmista. Bisogna sempre andare in punta di piedi, però mi sembra che qualcosina di allettante in questo trailer che ho aspettato uscisse in italiano, proprio per parlarvene meglio, ci sia. Perché da quel che comprendiamo si vuol raccontare la storia di John Kramer, che torna ad essere interpretato da Tobin Bell, nel momento in cui scopre di avere questo brutto cancro, come sappiamo, se anche voi aveste visto la saga, sapreste no? Tutto ciò che accade. Lui scopre di avere questa brutta malattia e quindi deciderà di sottoporsi a delle cure sperimentali, proprio andando in questa clinica specializzata dove dei dottori estremamente competenti su carta tranquillizzano John Kramer dicendogli che potrebbero curarlo. Già dal trailer uscito su YouTube capiamo che invece tutto ciò sia fasullo, che in realtà queste persone amino arricchirsi senza aiutare il prossimo e quindi prendendolo in giro e sfruttando la malattia altrui per arricchirsi. Dal momento in cui John Kramer lo scopre, ecco che allora farà sì che tutti questi medici falsi, tutti questi dottori che dovrebbero essere stimati ed invece scopriremo che siano dei truffatori, tutte queste persone verranno prelevate e diventeranno i protagonisti, tutti questi personaggi, dei giochi di sole enigmista del nostro Jigsaw dove in palio c'è la vita ma anche la morte. Quindi in base a come loro si sapranno comportare adeguare riusciranno forse a salvarsi. Ecco preferisco un film di questo tipo dove si lavora più introspettivamente almeno da quel che si evince dal trailer sul personaggio di Jigsaw, Tobin Bell è un attore che a me piace molto piuttosto che un seguito fuori tempo massimo in cui poi ci si vuole ricollegare al passato forzando tutto come era stato fatto con So Legacy. Io mi ricordo proprio che quel film confondeva lo spettatore perché già nel film capitolo finale c'erano delle persone che tu ti domandavi ma chi caspita sono perché sotto la maschera del maiale tu non sapevi chi fossero tutti i personaggi. Poi per di più in So Legacy scoprivi che questo tizio fosse stato sempre a fianco a John Kramer sin dagli inizi e quindi questa cosa faceva molto storcere il naso. Nel trailer di So 10 mi sembra quasi che invece si voglia lavorare, approfondire molto di più il passato del personaggio quasi come se le trappole, l'aspetto splatter fosse un accessorio che ci mancherebbe, è fondamentale perché togliere l'aspetto esplicito e splatter da un film su sull'enigmista sarebbe come togliere il fare l'amore in un porno. Però ecco fortunatamente mi sembra che questo film oltre alla mera violenza voglia raccontare qualcosa in più per approfondire il background del personaggio. Sicuramente So 10 potrebbe essere il grande rilancio della saga e resta da capire se una volta che il film sarà uscito sarà la prepista per ennesime continuazioni in base anche al successo al box office oppure se sia stato pensato come tassello conclusivo. Io sono dell'idea che se una cosa funziona sia giusto anche sfruttarla ma con cognizione di causa. Io non sono uno di quelli che dice basta ormai avete spremuto il brand fin troppo. No ci mancherebbe il cinema e commercio e quindi se la saga di So ha dato tanto al pubblico perché mi domando anche adesso non si prova a far sì che possa regalare qualche brivido qualche spavento qualche colpo di scena anche ai nuovi spettatori. Ci han provato con delle riproposizioni in stile l'eredità di So senza riuscirci quindi si torna alla matrice si torna alla base con Tobin Bell. Certo Tobin Bell c'era anche in suo legacy e i risultati sono stati quelli che sono. Il trailer a me è piaciuto vi dico la verità ho risentito quelle celebri frasi vivere o morire fai la tua scelta ho risentito la meravigliosa colonna sonora rivedere il personaggio protagonista fa sempre piacere per chi come me è cresciuto con questa bella saga perché sono più i capitoli riusciti che quelli insufficienti però c'è anche il timore che dall'altro lato se si spreme troppo un qualcosa poi il succo non esca più. Quindi a ottobre io sarò pronto per andare in sala anzi sicuramente mi rivedrò tutta la saga cosa che ho fatto sia per So Legacy e per l'eredità di So perché sono film che rivedo sempre volentieri. Il trailer mi sembra ben confezionato tra l'altro dietro la macchina da presa torna Kevin Grutter che aveva già diretto So 6 e So capitolo finale. Capitolo finale lo sapete non mi è piaciuto chissà quanto ma invece So 6 è il primo solo enigmista che ho visto al cinema e ce l'ho nel cuore. Quindi vediamo vediamo se almeno lui riesce bene a riprendere in mano ciò che aveva iniziato tanto tempo fa e cerchiamo di capire quanto questo film possa sorprendere avere realmente qualcosa da dire come vediamo dal bel trailer c'è anche Amanda che ritorna chissà se anche il dottor Gordon si possa rivedere se ci verrà data risposta ad ogni quesito rimasto aperto il regista ci ha fatto intendere di sì però chi vivrà vedrà. Io questa volta sono positivo a differenza del trailer dell'esorcista il credente trovereste la mia reazione sul canale che mi ha lasciato un po così neutro il trailer di So 10 mi ha comunicato qualcosa e quindi spero possa essere un bellissimo film spero possa realmente sorprendermi e più che altro mi domando nel caso avesse successo e volessero continuare la saga dove si andrebbe a parare poi perché qua qua c'è la scusa del prequel fra il secondo e il terzo su cosa ci si baserebbe poi boh chi lo sa però vediamo anche come riusciranno a collegarlo all'interno della saga perché secondo me ci saranno poi proprio dei legami anche per sorprendere il pubblico magari con un personaggio ritornante che non ti aspetti proprio per incastrare ogni cosa fino al sesto capitolo So secondo me ce l'ha fatta incastrare ogni meccanismo anche per stupire il pubblico vediamo io l'opportunità gliela do So mi ha regalato tante soddisfazioni negli anni e quindi sono il primo a volerci credere poi nel caso resterò deluso come con gli ultimi tre capitoli attendo di sapere la vostra fatemi sapere se anche a voi il trailer è piaciuto perché secondo me è proprio realizzato dignitosamente e ci vediamo ad una prossima recensione ad un prossimo video vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social che potreste abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana tatatan 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 tatatan